Ciao a tutti, il mio nome è Demon93 e in questo video vi annuncerò la possibile programmazione estiva Allora, parliamo prima delle cose prettamente personali cioè io domani andrò in vacanza, o meglio andrò a studiare in vacanza quindi non potrò più fare video però cercherò comunque di seguire il forum così almeno da tenermi aggiornato non so quando potrò tornare a casa e tornare appunto a fare video ma immagino che non potrò farlo non prima di fare l'agosto quindi immagino intorno al 16-17 agosto dovrei tornare però non ne sono sicuro non decido io queste cose quindi non posso predirlo poi, quindi, durante questo periodo non potrò fare video dopo, sicuramente farò video sugli area di livello 6 che qua mostro cioè il 410, la 5, il 2T e il 109F poi probabilmente arriveranno poi tutti gli altri cercherò appunto di fare, di continuare i video dedicati che ho poi lasciato da parte per la causa del wipe fatto per l'open beta e poi, sicuramente, cercherò di fare video sugli hack che sono stati annunciati e poi sugli inglesi a cui hanno fatto il promo che è stato poi pubblicato nel forum parlando appunto degli inglesi ho avuto, sì, sono stato interessato dal fatto che finalmente ci sono inglesi però un po' dispiaciuto perché hanno scelto quanto pare hanno fatto una scelta abbastanza discutibile cioè di mettere, sì, gli Spitfire quindi, evviva, evviva, ci sono gli Spitfire però mancano tanti aerei famosi e importanti quali il Locker tutti gli Locker, quindi l'Hurrican il Typhoon, il Tempest, il Fury che poi è diventato sì Fury ma vabbè, quello per avversi vicende legate alla presenza dei motori a getto perché, dico questo, perché è stato indicato il fatto, cioè è stato mostrato anche un caccia pesante quindi il Bligham, il Bligham F che era un bombardiere poi trasformato in caccia pesante che quindi mi fa dedurre il fatto che la seconda linea degli inglesi oltre a quella dei caccia che sarà relegata a tutti gli Spitfire e poi quel caccia strano di livello 10 che è stato mostrato nelle promo che io non conosco ci saranno i pesanti e quindi non... in cui probabilmente ci sarà in fondo il Gloucester Meteor o comunque intorno ai livelli alti fino a fare la fine stessa del 262 che era praticamente... il Gloucester Meteor praticamente era la... non dico la fotocopia ma quasi del... del 262 come approccio poi vabbè, è stato un po' di distinzione ok, detto... detto ciò per tutti questi annunci abbiamo finito spero di potervi seguire bene il forum in cui voi potete benissimo scrivere tutte... nel... nel topic sul mio canale nel... nel forum scrivetemi pure tutte le richieste che... tipo se volete un video su qualcosa a parte quelli che vi ho già citato fatemi benissimo sapere io cercherò di... di segnarmeli di far venire già delle idee mentre sono... sono via e non appena possibile cercherò appunto di esodire tutte le vostre richieste fatto appunto questa... questa breve carronata degli annunci vi saluto vi auguro buone vacanze ci vediamo probabilmente o nel forum quando riuscirò a collegarmi oppure dopo l'estate cioè dopo feragosto ciao a tutti